Non ci vedo nulla di strano né di clamoroso. C'è stato un esposto anonimo e tanti ne arrivano alla magistratura e come altrettanti interessano amministratori pubblici. La magistratura ora farà le sue indagini. Al sindaco dico, male non fare, paura non avere. Strammatizza l'avvocato Carlo Benedettino, che è presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, la clamorosa notizia dell'esistenza di un'inchiesta penale a carico del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, diffusa dal diretto interessato, che in una nota di ramata ieri ha rivelato di aver ricevuto una richiesta di proroga di indagini preliminari su una vicenda precisa Cialente, di cui non sono a conoscenza e ne do comunicazione in nome della trasparenza e prima che si scateni il battagio mediatico. Il reatto ipotizzato è quello dell'abuso di ufficio, conferma oggi lo stesso avvocato Benedetti, subito contattato da Cialente per la nomina difensore. In aggiunta si sa solo che l'indagine è stata avviata nel marzo del 2015 dalla Procura della Repubblica del Capoluogo, coordinata dai magistrati Fausto Cardella e Stefano Gallo e portata avanti dalla Guardia di Finanza. Di un'indagine che coinvolgeva il primo cittadino in città si parlava del resto da mesi, non a caso il tantamma ha creato problemi politici e di tenuta alla stessa maggioranza di centro-sinistra. Benedetti però considera non fondate in quanto non verificabili le voci che, a seguito del battagio mediatico provocato paradossalmente proprio dalla rivelazione del sindaco, parlano di una vicenda relativa a lavori effettuati nella sua abitazione, danneggiata dal sisma, da parte di un noto imprenditore, e di non precisati in essi con la vicenda risalente a prima del terremoto della mancata realizzazione della metropolitana di superficie. Un sindaco, aggiunge Benedetti, viene fatto oggetto di decine di esposti anonimi. È cosa normale, la magistratura ha poi il dovere di fare le indagini, nella maggior parte dei casi l'esito è comunque l'archiviazione. Nel caso specifico, aggiunge Benedetti, proprio perché le indagini avviate a marzo sono state prorogate di altri sei mesi, senza che il sindaco abbia ricevuto avvisi di garanzia, tutto lascia supporre che il caso sia destinato a sgonfiarsi, a concludersi con un nulla di fatto. Benedetti non lo dice, insomma, ma lascia intendere che il sindaco Cialente, rivelando l'esistenza dell'indagine, forse si è fasciato la testa prima del tempo.